I ruoli di una cosa che invece arriva fino a noi. Quindi mi sembrava giusto che cogliessimo tutti questo passaggio che lui ovviamente non può dire e cioè la sua autenticità consiste nell'essere oggi un manipolatore di parole che fino a forma contraria è il tramite della letteratura e riesce a farlo in un modo da rendere credibile la nostra cultura, quella vera cioè quella della quale siamo in qualche misura gli eredi quindi mentre se ne continuiamo a parlare in modo idealizzato siamo soltanto, diciamo così, degli inevitabili cultori di retorica misurarsi invece con le personalità che hanno dato vita alla storia della nostra regione siano quelli che fanno il bagno appunto fra una cala o l'altra siano invece quelli appunto che sono diventati magari dei pendolari o rimpiangere come tu fai spesso ogni lunedì l'infanzia delle tue forme significa misurarsi anche con una componente che è quella della vecchiaia e mi pare che siccome dobbiamo tutti vivere tutte le stagioni è bene che tu lo faccia ecco, volevo segnalare alla vostra attenzione il fatto che siamo come detto in presenza di una personalità della nostra letteratura questo è il migliore riconoscimento che mi sentirei di fare a questo mio amico grazie